La scuola di finanza coordinata alla DDA di Catanzaro ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di 800 milioni di euro ai fratelli Franco Pasqualino e Marcello Perri, imprenditori di La Mezzia Terme nel settore del grande distribuzione e proprietari di uno dei centri commerciali più grandi della Calabria. Il sequestro riguarda, oltre che al centro commerciale, anche 19 per mercati, concessionari di auto e moto, la partecipazione in 34 società, comprese la squadra di calcio Vigor La Mezzia, quella della Vole e Pallavolo La Mezzia. Fabbricati e ville, una quarantina di veicoli, tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati e tre ai familiari. L'operazione odierna è stata denominata Mare Magnum. In particolare, il sequestro di prevenzione ha riguardato 22 complessi aziendali, comprendenti il centro commerciale, 19 per mercati, le attività di commercio di motoveicoli e rivendita di motocicli e ciclomotori, attività operanti nei settori della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, in termini di azione finanziaria, recupero e riciclaggio di cascami e rottami metallici, produzione di gelati, gestione di impianti polivalenti, locazioni immobiliari, partecipazioni anche in forma totalitaria in 34 società attive nei settori della grande distribuzione alimentare, rivendita di autovetture, ottica, commercio al dettaglio di genere alimentari, ristorazione, immobiliare ed anche le quote della partecipazione, come dicevamo, della squadra di calcio della Vigor Lamezia. Tra gli altri ci sono 26 fabbricati e due ville di lusso, 42 terreni, 19 autoveicoli, tra i quali anche la Ferrari, 4 motoveicoli di russo, una ditta individuale operante nel settore della ristorazione, tutti i rapporti bancari intestati e riconducibili agli stessi fratelli oppure ai loro familiari. Il centro commerciale dei Due Mari, che è stato oggetto di sequestro, è bene precisarlo, rimarrà aperto malgrado il provvedimento di sequestro finalizzato all'applicazione della confisca prevista dal giudice antimafia eseguito dalla Guardia di Finanza. La gestione della struttura, infatti, sarà garantita da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Cadanzaro. E poi la stessa procedura sarà eseguita per tutte le altre attività imprenditoriali e commerciali di proprietà dei fratelli Perri che sono state sequestrate. Il padre degli imprenditori Perri fu ucciso nel 2003. Morì in un agguato di stampo mafioso il 10 marzo. Antonio Perri aveva 71 anni e venne assassinato alla Mezzia Terme da due persone armate di pistole mentre si trovava in una struttura commerciale di sua proprietà. Gli assassiri entrarono a viso scoperto nella struttura e dopo aver riferito ad un dipendente di aver necessità di incontrare Perri, che in quel momento si trovava nel suo ufficio, spararono contro l'imprenditore quando se lo trovarono di fronte. Perri morì all'istante ed i suoi assassini non sono mai stati identificati. Quando fu ucciso, Antonio Perri si stava accingendo ad aprire il centro commerciale Due Mari per la realizzazione del quale, secondo quanto è emerso dalle indagini, ci sarebbe stato l'interesse da parte di alcune cosche di indrangheta di la Mezzia Terme. La bara di Antonio Perri venne trafugata nel 2005 con la successiva richiesta di un riscatto per la restituzione. Grazie a tutti.